Ciao a tutti, oggi è sabato, 8 luglio 2006, eccoci giunti alla nostra analisi settimanale in video del Prosteblog che riassume la settimana finanziaria. Quello che vedete è il nostro indice S&P MIMB che con questo ultimo grappolo di candele è andato a mettere a segno una settimana caratterizzata da forte indecisione. Questo si vede molto bene anche dal grafico weekly dove quel famoso grappolo di cui vi parlavo ha stampato sul grafico quest'ultima barra, praticamente un doji, quindi praticamente una candela, una barra che segnala appunto indecisione. Sempre dal grafico weekly notiamo come il trend crescente ha visto appunto il recupero di cui vi parlavo nell'ultima analisi video che sembrava essere molto più deciso e che invece questa settimana ha visto un piccolo stop, una piccola pausa, pausa appunto culminata con questa candela d'oggi lasciata sul grafico settimanale. Tornando al grafico daily, ripeto la cosa importante per quanto concerne il nostro S&P MIMB beh che comunque siamo rimasti al di sopra della media a 200 giorni. Poi ci torneremo, vediamo un attimo adesso la situazione degli altri mercati. Iniziamo con l'Europa, direi situazione assolutamente analoga, con questo grappolo di candele sopra la media a 200 giorni e sopra il gap corrispondente al gap che si è avuto all'inizio di giugno, quindi vi parlo di gap eco in questi casi, e che come scrivevo anche sul Profsteblog ha diciamo sostenuto, ha fatto da supporto alle ultime discese, questo anche nella giornata di ieri. Tornando un attimo all'S&P MIMB vedete come i due gap proprio hanno permesso al nostro indice di evitare di proseguire verso il basso. Andiamo adesso negli Stati Uniti dove la situazione del Nasdaq è abbastanza pesante rispetto a quella del Dow Jones, meno drammatica, comunque con una discesa abbastanza forte, e quella dell'S&P. Perché dico meno drammatica? Allora iniziamo a vedere la posizione rispetto alla media a 200 giorni che è quella come sempre tratteggiata rossa. L'S&P è rimasto al di sopra, anche se gli Stati Uniti ieri dopo la nostra chiusura hanno messo a segno un ulteriore ribasso, cioè fino alla nostra chiusura c'era sì un lieve ribasso ma anche un pochino di indecisione. Dopo invece il ribasso è stato più consistente. Infatti vedete che la barra di ieri è una barra rossa, una candela rossa abbastanza marcata, che comunque ha lasciato ad esempio l'S&P 500 al di sopra della media a 200 giorni, cosa che è avvenuta anche per il Dow Jones, la barra rossa, la candela rossa del Dow Jones è ancora più marcata, ma comunque siamo al di sopra della media a 200 giorni. Mentre il Nasdaq, dicevo appunto, notate che è rimasto al di sotto, in verità il Nasdaq non è mai andato sopra la media a 200 giorni e ne è tuttora completamente al di sotto. L'altro elemento da considerare è il fatto che, come scrivevo, il Nasdaq anticipa un po' il recupero di negatività degli altri indici, per quale motivo? Perché, se guardiamo agli Stati Uniti, è il primo ad andare sotto quest'area che ha fatto prima da supporto durante la prima discesa e poi, notate, da resistenza prima del recupero che, con questa barra verde che si è avuta un po' il 29 giugno in tutti i mercati, ha portato anche il Nasdaq al di sopra di questa linea, salvo poi ieri appunto, dopo aver tenuto per un paio di giorni, aver perforato al ribasso, e questa è una notizia abbastanza negativa, questa stessa linea di prima supporto, poi resistenza. Andiamo a vedere gli altri indici. Ecco, vedete che l'S&P non solo al di sopra della media 200 giorni, ma ancora al di sopra di questa linea che caratterizza una zona che ha fatto, ripeto, prima da supporto e poi da resistenza. Stessa cosa per quanto concerne il Dow Jones, che si è fermato proprio ieri al confine di questa linea di, ripeto, supporto e resistenza, linea che per quanto concerne l'Europa è caratterizzata invece dai due gap. Vedete, più o meno, questo è il primo gap, questo è il secondo gap e per quanto concerne l'S&P MIB hanno opposto un buon supporto alla discesa, che si è fermata una e due volte esattamente in quest'area del gap eco, cosa che potete vedere avvenuta anche per quanto riguarda l'Europa. Primo gap, secondo gap e di nuovo questo gap eco che ha fatto da supporto alla discesa. La situazione in Europa, vedete, è, come scrivo da tempo, migliore di quella degli Stati Uniti dove oggettivamente i ribassi anche per l'S&P e per il Dow Jones sono più consistenti. Per quanto concerne quindi la settimana a venire dovremo stare attenti, arrivando al nostro S&P MIB, che è poi quello che ci interessa, a vedere se l'area del gap, uno, due gap, farà appunto ancora il suo mestiere, cioè continuerà a offrire un certo supporto come ha fatto in queste ultime sedute. Laddove il nostro S&P MIB perforasse al ribasso, superasse al ribasso questa area, è chiaro che la situazione diventerebbe notevolmente più negativa. Il recupero di positività si avrebbe invece, come sempre, al superamento di questo massimo che già vi segnalavo settimana scorsa, quindi dicevamo per comodità al superamento dei fatidici ormai 37.000. L'area dei due gap invece, vedete che termina al di sotto dei 36.000. Quindi tra 36.000 e 37.000 diciamo che permane questa indecisione che abbiamo sperimentato in questa settimana con ben 1 e 2 doji. In realtà questo è l'ultimo di settimana scorsa, comunque diciamo che permane appunto questa zona di indecisione. Al di sotto dei 36.000 invece la situazione potrebbe peggiorare, c'è ancora questa zona che potrebbe offrire comunque un supporto, perché vedete che è una zona abbastanza confusa dove non c'è stata in passato una direzione precisa e quindi di nuovo è un'area che potrebbe offrire un qualche supporto. L'obiettivo successivo sarebbero i 35.000 al di sotto dei quali si andrebbero appunto a testare i minimi raggiunti qua il 14 giugno. Ripeto e riassumo, tra 36.000 e 37.000 permane una situazione di congestione, una situazione di indecisione. Al di sopra dei 37.000, perdonatemi, un recupero di positività. Al di sotto dei 36.000 invece ancora una zona che potrebbe offrire un qualche supporto, che è tutta quest'area qui, sotto i 35.000 ovviamente, intuitivamente, la situazione tornerebbe pesantemente negativa con un attacco ai minimi del 14 giugno. Bene, per questa analisi video è tutto. Vi ringrazio perché in questa settimana moltissimi mi hanno scritto e ho notato che le visite sono aumentate tantissimo, quindi è segno che le mie analisi, il mio lavoro sta riscuotendo un buon successo, la cosa mi fa davvero molto piacere. Vi do appuntamento sul Professeblog per gli iscritti e per le analisi operative e i livelli operativi e con l'analisi video settimanale a sabato prossimo, ovvero se in settimana ci fossero delle novità interverrò con ulteriori analisi video. A presto!